Nella seconda domenica di Pasqua, la Domenica della Misericordia, ascoltiamo tradizionalmente, anche questo anno, il racconto dell'apparizione ai discepoli, la sera del primo giorno della settimana, il giorno della Resurrezione, e questa meravigliosa manifestazione di Nostro Signore che mostra le mani e il costato e poi dà il mandato del perdono, il mandato della Misericordia, viene reiterato nell'avventura di Tommaso, il discepolo che non è con gli altri nel momento della manifestazione del Signore. Il Signore Gesù, come sappiamo bene, tornerà, mostrerà mani e il costato e Tommaso farà la più grande professione di fede che noi abbiamo nel Nuovo Testamento, dirà del Signore, mio Signore e mio Dio. Ecco, cerchiamo di sottolineare una cosa nella luce della prima lettura. Nella prima lettura compare la vita di coloro che hanno ricevuto la vita nuova. Molti segni e prodigi, dice il testo, avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, negli altri nessuno usava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Allora, cosa succede? Che compare, che cosa? Uno stare insieme. Vediamo bene, se noi stiamo di fronte alla meraviglia della resurrezione, alla chiamata che abbiamo alla vita nuova, e siamo di fronte alla missione della misericordia, l'unica strada per la vita nuova è il perdono dei peccati, non ne esiste altra, non ne possiamo pensare altra, e infatti noi professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e il battesimo è la porta di tutti i sacramenti e della vita da figli di Dio, e la sua cifra, noi diciamo nel simbolo della fede, è il perdono dei peccati. Noi crediamo nella potenza del battesimo, molto bene. Noi sappiamo che però tutto questo ha una porta d'ingresso, c'è una condizio sine qua non assolutamente necessaria, è tanto spesso sottovalutata. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, è molto interessante, si chiama Didimo, Didimo in greco vuol dire gemello. Tommaso era un gemello, era uno che aveva questa condizione di tante persone, di avere la gioia di avere un fratello somigliante. Il Didimo è il gemello, è colui che infatti è proprio fratello per definizione. Se c'è una persona che è fratello, sempre, comunque, fino all'ultimo giorno della sua vita è un gemello. Un gemello, una gemella sanno di essere fratelli, anche se perdono il proprio gemello, restano sempre legati in una maniera inspiegabile per coloro che non sono gemelli. Tommaso è il gemello, lui sa che c'è sempre qualcun altro che gli somiglia ed è tanto bello che ci sia, perché c'è una gioia nei gemelli. I gemelli generalmente si vogliono molto bene fra di loro e hanno un legame inspiegabile, ripetiamo. Ma com'è che Tommaso, il fratello per eccellenza, il Didimo, non sta con i fratelli? Ed è qui la sua tragedia. Ed è per questo che non vede il Signore. Il Signore tornerà e lui arriverà la fede e arriverà una fede che è paradigmatica per tutti noi, è essenziale, è importantissima. Ma qual è il punto? Che lui, finché non trova i fratelli, non troverà Cristo. Per lui non sarà possibile arrivare a Gesù Cristo se non insieme ai Suoi fratelli. Perché questa è una condizione imprescindibile. Nessuno può scappare da questa condizione. Trovare il Signore Gesù in modo individuale che prescinda dalla fraternità è impossibile. E uno potrebbe dire ma no, conosciamo dei Santi che hanno avuto un'esperienza personale. Se noi seguiamo la linea di questi Santi troveremo sempre che la direzione è quella della Chiesa che venga prima o dopo o comunque intrinseco in ciò che è il momento dell'incontro di questo Santo, di questa Santa con il Signore Gesù c'è la relazione con i fratelli. E noi potremmo pensare al caso più individuale se vogliamo che conosciamo e anche il più eclatante quello di Paolo di Tarso che incontra il Signore Gesù in una maniera che è una rivelazione personale individuale che arriva a lui solo. E ma non possiamo dimenticare un fatto che è l'inizio di un processo il momento in cui lui viene buttato per terra e diventa cieco e riceve la chiamata del Signore una chiamata traumatica in quel momento è l'inizio di un processo che lo deve portare alla visita di Anania quel uomo che è il capo della comunità cristiana che va da lui e lo chiama fratello e gli apre gli occhi. In realtà è lo stesso meccanismo quello che porta Saulo dal perdere la vista al trovare il fratello la prima cosa che vedrà sarà il volto di Anania. Allora Tommaso deve stare con i fratelli se vuole trovare il Signore Gesù ma c'è anche un'altra caratteristica in questo testo che può essere rilevata e che è molto importante viene detto otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso finalmente dice il versetto 26 allora otto giorni dopo noi dobbiamo considerare che l'usuale maniera di contare i giorni da parte dell'ebraismo è un po' diversa dalla nostra noi contiamo i giorni escludendo il primo l'ultimo diciamo sette giorni dopo per indicare il passaggio di una settimana ma come era anche in uso e forse da qualche parte ancora si dice giorni otto ci vediamo in alcune parti si dice così ecco loro contavano sia il primo che l'ultimo giorno di fatto c'è l'ottava di Pasqua che implica otto giorni se li andiamo a contare dalla domenica di resurrezione alla domenica che dobbiamo festeggiare con questo Vangelo allora otto giorni dopo nel linguaggio ebraico nel linguaggio della mentalità semitica è una settimana dopo allora siamo a una scansione perché ci viene detto che all'ottava del giorno di resurrezione Gesù riapparirà perché inizia un ritmo il ritmo dell'appuntamento che il Signore darà alla sua assemblea per noi cristiani come dice la liturgia dell'annunzio di Pasqua nel giorno dell'Epifania abbiamo questa esperienza la domenica Pasqua della settimana cioè c'è un giorno peculiare in cui noi celebriamo la resurrezione allora guardate una cosa che è molto importante primo Tommaso può incontrare il Signore Gesù solo per mezzo insieme all'interno del rapporto con i suoi fratelli e nel rapporto con i suoi fratelli nella vita di questi fratelli ci sono degli appuntamenti che sono regolari vi ho detto questo ottavo giorno e inizia così la scansione e nella Chiesa nei primi secoli sarà fortissimo il senso della domenica anche per la radice ebraica della fede cristiana nella fede ebraica lo Shabbat è l'istituzione più forte più importante più coesiva del mondo ebraico il giorno del sabato e la sua celebrazione e il riposo che deve essere celebrato nel giorno il giorno di sabato è essenziale per la vita di un ebreo ed ecco che i cristiani della prima generazione erano tutti ebrei e quindi sentono che si è spostato questo giorno e che il giorno del Signore è il giorno dopo il sabato allora noi capiamo delle cose la misericordia è la nostra salvezza ma la misericordia richiede di passare per la relazione non esiste un'esperienza individuale della fede la fede è chiamata la comunione per sua propria natura è impossibile amare Dio senza amare il prossimo se non amo il fratello che vedo non posso dire di amare Dio che non vedo dice la scrittura allora qual è il punto noi sappiamo che sono necessari i fratelli e ci sono degli appuntamenti la misericordia di Dio non è un distributore automatico che uno va a sfruttare quando gli venga l'uzzo di farlo no ha degli appuntamenti dice il profeta Esaia cercate il Signore mentre si fa trovare invocatelo mentre è vicino per salvarsi non si dettano i tempi a Dio è Dio che ci dà degli appuntamenti e io posso pensare che voglio farmi la mia Pasqua o non so cosa non so dove non so come e soprattutto non so con chi o se con chi forse voglio farlo proprio da solo impossibile non si dà non dà si fa con i fratelli si fa negli appuntamenti liturgici ed è lì il posto a cui dobbiamo arrivare a cui dobbiamo condurre le persone che si avvicinano alla fede dobbiamo sempre riportare all'assemblea cristiana e all'appuntamento che il Signore ha con la sua assemblea che il Signore ha